Se possiamo fare qualcosa per la solidarietà e per portare un contributo alla solidarietà, questo ci fa sempre piacere. Divertimento e solidarietà e con questo spirito che al Palazzetto dello Sport di Belluno si sono date battaglia alle formazioni delle forze dell'ordine e degli amministratori comunali per la partita del sorriso. Fiscio di inizio e primo calcio. Forza! Via! L'importante è fare qualcosa per gli altri e siamo qui apposta. Mi hanno lasciato da sola le amiche dell'amministrazione, però cercherò di rappresentare tutte le ragazze. Un migliaio di euro l'incasso dell'evento, che sarà interamente devoluto al progetto Stacco del Comitato d'Intesa di Belluno, un servizio di volontariato che da quasi 20 anni accompagna persone anziane o con disabilità dal proprio domicilio alle strutture ospedaliere di tutta la provincia. L'obiettivo per il quale stiamo lavorando è un obiettivo molto importante, il progetto Stacco è un progetto fondamentale per la nostra provincia e che tra l'altro ha fatto anche scuola in tante altre zone del Veneto e fuori dal Veneto. Una partita del sorriso di nome e di fatto, tanti gol da entrambe le parti, anche se alla fine gli amministratori hanno dovuto cedere alla legittima superiorità fisica delle forze dell'Ordine.